buongiorno ragazzi buongiorno ragazze questo video lo voglio dedicare tutto quanto al signor giovanni trapattoni perché ieri l'ho nominato in un video che l'ho messo a confronto con quel cazzone che c'è adesso a torino che fa l'allenatore non mi ricordo più come si chiama max allegri no il toscana c'è un altro un altro filosofo da 7 8 milioni di dollari all'anno fanno tutti i filosofi sta gente sembrano i filosofi o addirittura alcuni pensano di essere dei dio venuti sulla terra sono dei redentori quindi non gli si può dire niente non li si può toccare che vanno su tutte le furie quando invece io ho avuto la fortuna di di conoscere il signor giovanni trapattoni devo dire veramente e forse nel mondo del calcio una delle persone più belle più pure più vere che che ci siano veramente una cosa una cosa splendida il signor giovanni trapattoni è una persona una persona stupenda io mi ricordo da giovane appartenevo a un inter club e spesso volentieri si volava a da piano gentile e lui era sempre molto disponibile a differenza di questi grandi uomini che ci sono adesso lui era venuto all'inter dopo aver fatto delle stagioni stupende alla juventus e io veramente ragazzino cominciai a seguire l'avventura mi ricorderò sempre per tutta la vita l'avventura della juventus in coppa uefa che secondo me resta una delle coppie più belle ma davvero un valore immenso perché eravamo senza stranieri perché c'erano tutte le squadre le squadre erano veramente forti erano gli anni dell'olanda erano gli anni del bayern erano gli anni dell'ajax eppure quella juventus vinse una coppa uefa veramente giocando forte a livello fisico era tenace come il suo allenatore perché giovanni è sempre stata è sempre stato un medianaccio di quelli che prima di perdere proprio e quindi mi ricordo ancora la sua grande la sua prima grande juventus io non sapevo ancora ero un giovincello forse 14 15 anni quindi non sapevo ancora cos'era l'anti no ero puro puro e fantastico e quindi non conoscevo la il tifo contro non sapevo cos'era e devo dire che mi è rimasto sempre in mente questa grande squadra avevano un centrocampo da ragazzi da da far paura e loro eliminarono mi sembra sono quasi sicuro i due manchester dalla coppa poi trovarono una squadra della germania dell'est trovarono in finale una squadra spagnola basca l'altretico bilbao ma giocavano non giocavano bene ma giocavano forte difficile sorpassarli passagli sopra erano tutti dei cararmati centrocampo era formato da un giovanissimo marco tardelli appena arrivato dal como anche lui non ricordo giovane giovane l'ultima partita di campionato poi c'era furino e benetti ragazzi questi tre formavano il centrocampo con l'inventiva era tutta sulla fascia destra che c'era un certo franco causio e davanti giocavano che era uno spettacolo uno spettacolo perché erano veramente bravi tutti e due boninsegna appena arrivato dall'inter e roberto bettega che secondo me è stato uno dei più i primi giocatori moderni sapeva fare tutto questo qua sapeva aveva un controllo di palla incredibile aveva uno stacco di testa forse uno dei più forti al mondo come stacco di testa veramente una cosa allucinante una grande squadra in difesa giocavano mi sembra se non vado errato zoff in porta poi c'era cuccureddu poi c'era scirea giovane anche lui il povero scirea e sulla destra giocava gentile non mi ricordo più se a sinistra chi chi faceva giocare al giovanni non tutto l'anno sicuro sono sicuro che abrini non giocò tutto l'anno perché era troppo giovane in quegli anni lì comunque tutto questo per dire che è veramente bello quando tu non hai non hai contro non sai cosa vuol dire ti fare contro e è come è stato l'altra sera vedere il livre pur con barcellona tu ti siedi e non devi ti fare contro nessuno cosa che dopo diventi grande cominci ad andare a frequentare i bari caffè cominci a conoscere la gente di merda e ti rovini perché è normale che è così comunque davvero ragazzi un il signor giovanni trampattoni non c'entra non c'entra davvero niente con col signor max allegri ancora una volta mi dispiace dirlo ma è così io ammiro tanto come gestore della di uomini il signor allegri ma non non lo gestisco non lo concepisco non concepisco il suo modo di comportarsi verso i giornalisti o addirittura i suoi ex compagni perché si può dire che fra lui e lele adani non so chi ha giocato più ad alti livelli e quindi è stato veramente di una meschinità dare del incompetente di uno che un teorico lele adani cioè ragazzi sono rimasto sconvolto ma livello proprio uno dice ma ma questo qui ci fa o ci è no te lo chiedi perché dici ma ma no ma non si può cioè dopo uno che ti racconta uno che ti dice che la ex ha fatto solo quattro ripartenze in tutto la parte che è meglio che tralascio quello che penso davvero del signor fazio che quando vuole quando lui vuole sa essere uno delle persone più lecca culi ma proprio leccare il culo ad altri che è di una cosa abonimi abominevole abominevole veramente una cosa abominevole questo uomo quando c'è da leccare il culo figa gli da delle slinguate a delle persone che vanno nelle sue trasmissioni invece quando c'è da fare il figlio di puta lo fa e l'altra sera ha permesso al signor di dire tutte ste sciocchezze per perché cosa perché per far vedere che vanno tutti da lui si vanno tutti da lui ma tutti da lui ma chi vuole lui fa venire perché quando c'è qualcuno che è obbligato a chiamare per sia per l'audience che per altre cose si capisce subito comunque te lasciamo fazio e torniamo al discorso ancora una volta anche oggi un paio di tifosi miei amici bianconeri mi hanno chiesto un parere io io ripeto anche questo barcellona sinceramente non so quante persone barcellona farei giocare nella prenderei nella juventus io a parte messi e suarez ma il centrocampista ce ne hanno sono tutti e due buoni ma che la juventus non mi sembra non lo sono ripeto ieri sera era una partita anche che ha deciso veramente ieri sera hanno deciso le grandi non le grandi le grandissime giocate perché il gol i due gol di sia quello di suarez e il terzo di leon messi sono di una difficoltà incredibile perché anche il primo di suarez solo chi veramente ha giocato e può capire quanto è difficile fare quel gol lì sono rimasto sbalordito in maniera positiva perché il liverpool ha fatto la sua bella bella grande figura dopo veramente il calcio è è bello perché una partita così nessuno nessuno avrebbe detto niente se finiva 1 1 2 2 è finita a 0 ragazzi però non si sa mai nel calcio perché ripeto come girato tutto 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 per il verso giusto a barcellona può darsi che possa girare tutto tutto e girare tutto storto al barcellona anche ritorno fate quindi direi stare tranquilli poi ho sentito l'entrac di francoforte che va avanti ma avanti a fatica io continuo a ripetere che per me non è una grande squadra noi potremmo fare qualcosina di meglio contro l'entrac di francoforte invece ritengo che abbia fatto un bellissimo girone in coppa dei campioni l'ho sempre detto lo ripeto e lo stanno dimostrando le due squadre che abbiamo nel nostro girone a che livelli sono come stanno giocando e noi devo fare ancora una volta i complimenti allo scienziato di certaldo perché a livello tattico ha dimostrato che sia a milano che a londra di saperci fare dopo ragazzi la qualità è troppo differente ok comunque tutto questo solo per dirvi che informatevi e conoscete meglio soprattutto i ragazzi giovani Giovanni Trapattoni uno che ha vinto 7-8 scudetti o 6 o 7 con la Juventus e ha vinto un paio di coppe UEFE con una con l'Inter e una con la Juventus l'Inter era 25 anni che non vinceva più in Europa lui è riuscito a rifare vincere in Europa l'Inter e si è ha vinto solo un grande scudetto però con veramente quell'anno lì c'erano il Napoli e Milan che erano due squadroni due squadroni eccezionali e l'Inter dimostrò veramente quell'anno lì di essere una grandissima squadra lui ha saputo gestire quegli uomini lì lui non amava il grande gioco era un altro era un po come allegri a livello di gioco però tutta un'altra persona ciao ragazzi